Benvenuti al GCN Italia Show numero 274, come sapete ormai sono da solo, Maranga si sta preparando per il suo esordio nei pro, il giro di cubo ormai è vicino, voi invece come state? Avete mangiato bene questi giorni? Siete divertiti? Via con la puntata! Vedepe ha vinto il Fiandre e c'è poco da sorprendersi, alla fine partiva come stragrande, favorito in una corsa che praticamente è la sua corsa, pensate che l'accordo del 2019 è l'anno in cui l'ha vinta Betio, in quell'anno lui cadette prima del vecchio Quaremont, riuscì a rientrare e arrivò quarto, e fu il suo peggior risultato nella sua storia del Fiandre, perché poi vinse il 2020, secondo il 2021 buttando via la volata con Asgren, Vinse nel 2022, secondo nel 2023 dietro a Pogacar che l'ha battuto giustamente Poggio quel giorno volava e ha rivinto domenica di Pasqua, un Vedepe veramente impressionante, a rendere ancora più scontata quasi se vogliamo questa vittoria, quando durante la telecronica ho scoperto che la sua ammiraglia era dotata di ben due biciclette di scorta per Vedepe, ho detto vabbè dai oggi vince con una gamba, perché dico questo? Perché il Fiandre è una corsa in cui se si forua, se si rompe la bicicletta è un momento sbagliato, è difficile ricevere l'assistenza, ma era la miraglia lontana, si è tutto gruppo sfartugliato, sfartugliato, distrutto, e quindi diventa complicato ricevere l'assistenza. Se la sua squadra ha messo in conto che Vedepe avrebbe potuto bucare, rompere la bici in una ma ben due volte, avrebbe potuto comunque avere chance di vittoria, immaginate quanto superiore è questo ragazzo quando mancano i suoi avversari principali. Ora Matteo è entrato a far parte del club dei sette che hanno vinto il Fiandre almeno tre volte, nessuno ha mai vinto il Giro delle Fiandre per quattro volte, e Matteo sembrava il candidato ideale, anche perché ha rinnovato con la sua squadra l'Alpes in der König fino al 2028, lui adesso ha 29 anni, quindi ha ancora quattro occasioni almeno per poter vincere il Giro delle Fiandre, e quindi potrebbe vincere quattro, cinque, sei, insomma potrebbe vincere veramente ancora tanti considerando la sua costanza di prestazione in questa corsa che è veramente adatta a lui. Ma non c'è solo Vedepe in questo Giro delle Fiandre, c'è anche tante Italia, sia il maschile che il femminile, e questa cosa è abbastanza incredibile perché siamo partiti soprattutto a livello maschile con poche possibilità, se non quelle con Alberto Bettiol, che si è fatto una bella campagna del nord, ha vinto la Milano-Torino, sembra in grande condizione, e fino alla fine è stato lì per provare a cogliere un secondo posto in fuga insieme a Dilanthems. È stato ripreso proprio in volata, e questa volata, lanciata da Michael Matthews, poi deglassato per comportamento scorretto, è stata vinta da Luca Mozzato. Luca Mozzato, corridore veneto del team Archea, 26enne, è probabilmente il corridore più sottovalutato che abbiamo in Italia, i giornalisti ne parlano pochissimo, Luca, questa è anche noto critica, anche noi abbiamo parlato poco, meno di quello di cui lui sicuramente merita, anche perché ha una costanza di rendimento veramente interessante, non ha vinto tantissimo la sua carriera, però è sempre spesso piazzato, e questo piazzamento qui vale veramente tanto, salvere sul podio al Giro delle Fiandre, insomma, in un Fiandre così duro, è sicuramente una cosa che può fare soltanto una persona che è in grande condizione. Pensate che Luca, a soltanto 24 anni, è riuscito a chiudere al 64esimo posto nel ranking, e quest'anno è attualmente al 13esimo posto primo degli italiani, quindi complimenti Luca, continua così, domani correrà la scheda del Pris, una corsa per velocisti a cui piacciono il corso del Nord, quindi una corsa veramente adatta a lui, facciamo sicuramente un grande in bocca al lupo. Uno dei motivi che spiega il fatto per cui di Luca se ne parla così poco è perché è un modo di correre veramente concreto e molto intelligente, cioè punta a battere cassa, a fare risultato, che sia una vittoria a un piazzamento, senza farsi vedere più di tanto quando non serve. L'interpretazione che ho avuto delle Fiandre mi è piaciuta moltissimo, un Fiandre velocissimo, un Fiandre bagnato e quindi ancora più duro, in cui era importante arrivare nel finale con le gambe a posto, quindi bisognava stare davanti senza prendere aria, e risparmiare più di energie possibili, che è l'esatto opposto di quello che ha fatto Pedersen, che era un corridore favorito insieme a Betiole e Van Der Poel per cercare di battere Pedersen e anche Jorgensen, scusate per battere VDP, solo che Pedersen è partito a non so quanto dall'arrivo, cioè ha fatto questa azione, tra l'altro con la ruota un corridore dell'Alpes in Wermers, che gli dava i cambi per finta, cioè anzi l'Alpes in quel punto ha detto a Wermers, si tira ogni tanto, lo teniamo fuori a bollire il più possibile, e quando vogliamo chiudere, chiudiamo, cioè Pedersen non può fare queste cose, soprattutto non le può fare in funzione di chi può, nel senso, Jonathan con tutto il bene che gli vogliamo, lo aspettiamo domenica alla Roubaix, però un Fiandre così forse non è ancora pronto per Milan, Scuiz, non lo so, cioè il favorito era Pedersen per la Trek, e visto come si è mosso bene in questo inizio di stagione, mi aspettavo una condotta di gara diversa, anche perché quando c'è un'unica punta così accentrante come Van Der Poel, è anche un po' più facile correre, cioè tutti attaccano Vede Pei, e tu devi cercare di stare su ruota di Vede Pei, far sì che sia lui chiudere i buchi, e poi se ne hai, provare a fare qualcosa nel finale, se lui si è stancato tanto, ovviamente non è facile battere Vede Pei con di così, è probabilmente anche impossibile, però partire in quel modo da solo con una ruota Vermes a non so quanto dall'arrivo, non è stata proprio una condotta di gara più intelligente. Vede Pei invece ha corso in modo molto intelligente, ha detto ok, ho questa squadra, possono lavorare per questa quantità di chilometri, a me interessa che lavorino fino a quando? Ma fino al momento chiave della corsa, e qual è il momento chiave della corsa? Quando il Fiandre è bagnato, il Koppenberg. Il Koppenberg è una salita durissima, c'è un pezzo al 20%, in mezzo a due rive di fango che fanno scendere lo sporco quando piove, e in quel punto lì si scivola veramente tanto. Scivolava Vede Pei in testa, scivolava Jorgensen in seconda posizione, e il terzo, che mi sembra che era la Scano, non è riuscito più a salire, ha messo piede a terra, e a quel punto si innesca un effetto d'olmino, tutti colpire a terra, e lì prendere vantaggio un attimo. Cioè, quando gli altri salgono a piedi, tu sei in bici, capite che si fa una differenza enorme. È uscito dal Koppenberg, mi sembra, con un minuto e passa sugli altri. Quindi, tranne Jorgensen, che l'ha tenuto lì, ha fatto bene Vede Pei non aspettarlo, anzi, tirato dritto Jorgensen, a quel punto è saltato, non è riuscito nemmeno ad arrivare col secondo gruppo, è proprio crollato, a dimostrazione di quanto duro è stato questo Fiandre. Come ho detto, domenica ci sarà la Paris-Giroubaix, cosa aspettarci? Sì, sicuramente ancora Vede Pei, favorito numero uno neanche a dirlo, e il secondo favorito ce l'ha in squadra, che è Philipsian, l'anno scorso è arrivato secondo, è in grande condizione, la Roubaix è una corsa che si è visto che sa gestire molto bene, è il più veloce di tutti, non arriva a gruppo ristretto, quindi diciamo che l'Alpes in parte come squadra stra-favorita alla Roubaix. L'unica squadra che può provare a scompiare un po' le carte è sempre la Lidl Trek, che però ha perso Stuive nella caduta, che ha coinvolto anche Van Aert alle Fiandre Occidentali, però alla Roubaix la Lidl Trek, come dicevo prima, ha giornata a Milan, un corridore molto pesante che al Fiandre può soffrire, ma alla Roubaix sicuramente questo peso non gli dà problemi e potrebbe veramente fare una gran corsa, glielo auguriamo sicuramente. In campo femminile Elisa Longoborghini torna al successo dopo ben nove anni al Giro delle Fiandre. L'ultima volta ha vinto nel 2015 con la maglia della Wiggle Honda, era da poco passata professionista, e nonostante questa ragazza sia del 91, ha avuto una carriera veramente lunghissima, eccezionale e costante anno dopo anno. Quindi complimenti Elisa, è veramente contenta dopo questo successo, ha ringraziato Paolo Slongo, il suo preparatore, ha ringraziato Jacopo Mosca, il suo marito, corridore della Lidl Trek maschile, che le ha insegnate a fare le volate al cartello, perché è riuscita a battere proprio la neva doma allo sprint. Uno sprint a tre, in realtà due, perché una di queste tre era la Shinvan Roy, compagna di squadra di Elisa Longoborghini, e quindi, diciamo, se la giocavano queste due atlete, l'italiana e la polacca, alla fine ha vinto Elisa. Una corsa che si è decisa anche in questo caso sul Koppenberg, sono riusciti a salire una decina di atleti senza mettere il piede a terra, alle spalle di Lotte Copecchi una ragazza ha messo il piede a terra, da lì si è fermato tutto, si è creato praticamente un montone di gente, è iniziata a salire a piedi, anche la Copecchi è dovuta scendere, poi risalite, riuscite a rientrare nel gruppo delle prime, e alla fine, all'interno di questo gruppo, la Van Roy ha anticipato, dietro di lei si è messa a tirare la SD Works giustamente, i Copecchi, i Vollering, era veramente ben messa, nonostante lo Sporacchio e la Voss in gruppo per un'arrivo involata, però Elisa Longoborghini e Neva Doma hanno deciso di anticipare tutte, sono riuscite a rientrare sulla Van Roy, che si è messa a tirare a tutta fino al traguaggio, sono riuscite queste tre atlete ad anticipare il gruppo delle favorite, se vogliamo, quindi la SD Works più Marian Voss, che è riuscita a vincere appunto la volatina arrivando al quarto posto. Bene anche le altre italiane, settimo posto per Silvia Persico, nono posto per Letizia Paternostra, che sembra essere finalmente tornata sui livelli che le competono. Parliamo ora di qualche novità tech o meglio notizia dal mondo dei pro, i nostri colleghi di GCN UK sono andati a fare la campagna del nord e hanno visto un po' di chicche, prima fra questi i pneumatici, che stanno veramente cambiando tanto negli ultimi anni, ormai la sezione da 28 mm è la più utilizzata, è in versione tubo, il suo copertoncino con camera d'aria high tech, tra i professionisti, però nel corso del nord, visto che c'è il pavé, si utilizzano sezioni ancora più larghe, la 30 mm è la più diffusa in assoluto, anche se ci sono squadre come la Stan e il Team Ineos, rispettivamente con Vittoria e Continental, che corrono addirittura con le 32. 32 all'interno di una Pinariello F, ci passa veramente per un filo con le tolleranze, quindi è una scelta veramente pensata, per portare benefici maggiori, ed è pazzesco pensare che una volta si correva con i 23, quando si usavano i 26 o i 28 sulle corse più dure, sembrava una cosa, sembrava di essere i carri armati praticamente, quindi il tempo sta cambiando queste cose, è interessante notare anche la Lidl 3, che corre con dei Pirelli prototipo, non ancora in commercio, sono delle gomme sviluppate insieme agli atleti del team, sia maschile che femminile, hanno una sezione nominale da 28, in realtà quando sono montati sulle bone trager, delle loro trecche, praticamente misurano 30 mm se presi col calibro. Quando si parla di novità, Tech però è la dinamica che fa sempre la sua figura da protagonista, infatti sono stati lanciati dei nuovi caschi, anche in questo caso non ancora in commercio, utilizzati sia dal team Minions che dal team IF, che tendono un po' a mettersi a metà strada tra i caschi aero di questa generazione, anche di quella passata, e i caschi da cronometro, sono veramente una via di mezzo, con delle visiere che si integrano con il casco, con una parte laterale più bassa, che va a coprire anche la parte alta dell'obbio delle orecchie, insomma un qualcosa che spinge ancora un po' in là l'aerodinamica, che può avere un casco da strada. Sempre un discorso aerodinamico, anche i manubri ormai sono quasi tutti integrati, che vuol dire che l'attacco manubrio è un pezzo unico con il resto del manubrio, quello più particolare attualmente utilizzato dai Pro, è quello della 1X montato sulle biciclette d'are, è veramente enorme, penso che non si riesca a stringere manubrio in presa alta da quanto è largo, però ovviamente questa cosa permette di farlo più sottile, e quindi più aerodinamico, allo stesso tempo anche più rigido a livello di torsione, quando si alza sui pedali. Queste cose sono possibili grazie alle regole che sono state allentate leggermente per i componenti delle biciclette da parte delle luci, e quindi si sta sperimentando qualcosa che è sempre più aerodinamico. Ultima novitatec ci arriva direttamente da Genova, da Gandolfo, e questo è un sistema brevettato per correre la Paris-Giroubaix, in cui praticamente non si appoggia a sedere sulla sella, ma si viaggia a sospesi pedalando. Non so bene come funziona la aerodinamica, mi sembra appena appena ingombrante, rischia di pigliare dentro anche i ponti più bassi, però penso possa essere confortevole. Bravo Gandolfo, brevettero se non l'hai ancora fatto. Passiamo ai vostri commenti, iniziamo con Massimiliano Merati, perché piacciono le corse del nord? La domanda che c'eravamo fatti la scorsa puntata, e Massimiliano risponde, io la mia compagna, perché vediamo bei posti? Giorgi, i secondi dopo, i posti fanno abbastanza schifo. Bene, ma non benissimo. Ma come si fa a dire bei posti? Ragazzi, ma avete stati in Belgio, il nord della Francia, a vedere com'è? Cioè, boh, dei postacci veramente. Poi, voglio dire, ognuno piace il posto, cioè, soggettivo, però, voglio dire, bei posti ce l'abbiamo noi, non, non, lì hanno altre cose molto interessanti, ma, dai. Andrea Di Magistris, Madonna Alan, sono contentissimo per te, proprio non c'è limite al destino e cosa di bello può caderti nella vita, ma tu sei un bravo ragazzo e ti meriti tutto il meglio. Parla di Alan, che ha firmato con la Bardiana Green Project. Sono certo che andrai bene e che potrai avere anche il rinnovo per il prossimo anno. Non preoccuparti per noi, che ti guardiamo su GCN. Quando tornerai, saremo ancora qui da aspettarti. Se poi non ti rinnoveranno per il prossimo anno, metterò una buona parola per te, una squadra dove proprio oggi ho firmato per i prossimi siani, la Inus Grandir. Quindi, complimenti anche a te, Andrea Di Magistris. Il primo aprile è stata una giornata veramente fantastica, a livello di contratti e novità, ho visto che un sacco di persone hanno firmato in tante squadre diverse, quindi complimenti a tutti. Chiudiamo con Emanuele Patelli, Grande Giorgio, meri sopra il lago d'Indine, al castello di Bianzano. Sì, ero fulminato. Un video che è uscito qualche giorno fa in cui provavo a allenarmi anche per una buona distanza senza colazione, ha detto che ero sopra il lago d'Idro. L'ho detto ben due volte, quella clip l'ho registrato due volte, e ho sempre detto lago d'Idro. Ero proprio abbastanza bollito, vedete il lago d'Indine, mi avete corrato in tanti, e non sono completamente fulminate, ero solo un po' tanto suonato. Passiamo alla Caption Challenge, senza premi. L'altra volta Alan ha messo una foto di Poggi rincorso, affiancato da tanta gente a piedi. Abbiamo due vincitori che non vincono nulla, che sono Lorenzo Peschetta, stanno andando a fermare Poggi, altrimenti lui andava direttamente a vincere il giro. e Glanci 82, e qui devo fare un'interpretazione, Ertadeide e Torbella Monaca con la batteria del UAE. Au, annama via, quello con la moto che mi sta a far allentare e riempimolo de' zaccagnate. Bene. Questi sono i vincitori ad onore della Caption Challenge. Non ho selezionato la Caption per questa settimana, anche perché, boh, le scuole che fa il maranga, di solito, non l'ho selezionata. La proporrerà lui la prossima volta quando tornerà, se mai tornerà al maranga oppure si sta già preparando a fare il giro di Cuba libre. Siamo arrivati alla conclusione che è di questo 274esimo GCN Italia Show. Da solo non è come farlo col maranga, mi manca un po', però d'altro non ne mi devo abituare. E questo è quanto. Se vi è piaciuto mettete un bel like, scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate, quanto volete vedere ancora al maranga qui GCN, magari vi facciamo cambiare idee, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!